ZXFLAX parte, invade e conquista la città di Roma. Un solo modo per entrare, farsi un selfie allo specchio ZXFLAX negli store adidas, condividerlo sui social. 10 urban PR, 10 giorni di attività, 2000 foto condivise, 100.000 utenti raggiunti, contaminata la rete. Nella notte del 23 aprile agli studios di Roma, Brodischi e Gesafestein in console con 3500 ragazzi impazziti. Live social world con più di 1000 foto condivise in una notte. Un loop che provoca un cortocircuito tra social, PR, store, party e social.